Quali sono i film più attesi per il 2024? Ciao a tutti ragazzi, oggi tireremo un po' le somme per le prossime uscite di questo anno cinematografico che ci aspetta perché sono diversi i film che attendo con ansia e non sempre per motivi giusti diciamo. Partiamo assolutamente con Dune, parte 2. Il film diretto da Denis Villeneuve uscirà in Italia il 13 marzo e come sappiamo avrà nuovamente protagonista Timothée Chalamet e con un minutaggio maggiore finalmente vedremo Zendaya. Inoltre ci sarà un grandissimo Fade Rauta interpretato da Austin Butler. Troviamo un cast d'eccezione come Florence Pugh nei panni della principessa Irulan, Josh Brolin, Christopher Walken, torna nuovamente Dave Bautista e molti altri per un film che farà molto parlare di sé in questo 2024 e sicuramente, e se vedremo delle belle, durante questo anno cinematografico che ci regalerà il secondo film molto atteso ovvero Furiosa a Mad Max Saga che avrà come protagonista Agna Taylor Joy nei panni di una giovane furiosa che intraprende il suo cammino in quella che poi conosceremo come la Furiosa di Charlize Theron. Il film diretto da George Miller arriverà in sala il 23 maggio, quindi a pochi mesi di distanza dall'uscita di Dune, parte 2 e probabilmente questi film li ritroveremo anche nelle varie premiazioni che ci accompagneranno durante l'anno. Uno dei film più chiacchierati e che uscirà il primo febbraio qui in Italia è The Iron Claw che vede protagonista Zac Efron diretto da Sean Durkin. Qui il buon Zac interpreterà un wrestler in cerca della gloria e lo vedremo super pompato durante dei combattimenti sul ring in un aspetto che non abbiamo mai visto. Curioso per questo film, soprattutto per il cast al quale si è aggiunto recentemente, proprio negli ultimi mesi delle riprese, Jeremy Alley White, il Bear di The Bear, la serie che trovate su Disney+. L'unica uscita per il 2024 dei Marvel Studios è anche uno dei film più attesi degli ultimi anni per quanto riguarda l'MCU, ovvero Deadpool 3. Il terzo capitolo del mercenario chiacchierone ci riporterà a Ryan Reynolds nei panni appunto di Deadpool, del mutante avrà la compagnia di Hugh Jackman che ritornerà dopo Logan nei panni di Wolverine. A quanto abbiamo capito rivedremo i mutanti, quindi ci saranno sicuramente diversi X-Men nel film e sarà un film incentrato sul multiverso. Le notizie che sappiamo sul film sono nebulose, ma è uno dei film più attesi perché sono veramente curioso di vedere dopo l'acquisizione da parte della Disney e della Fox come tratteranno appunto Deadpool, se toglieranno quella giudenza caratteristica del film o la rimarranno come abbiamo visto anche recentemente fare in eco. L'uscita di Deadpool 3 in Italia ancora non è chiara, ma sappiamo che negli Stati Uniti la pubblicazione del film è prevista per il 26 luglio, più o meno sarà quello il periodo che verrà rilasciato anche in Italia. Stesso mese, qualche giorno più avanti, per la precisione il 31 luglio, verrà pubblicato il nuovo film di M. Night Shyamalan, ovvero Trap. Sappiamo pochissimo sulla trama, quasi niente, ma soltanto perché c'è Shyamalan alla regia. Io sono veramente curioso. Dopo Old mi aspetto di tutto perché Shyamalan è uno di quei registi che tra alti e bassi ci regala sempre delle perle che poi ricorderemo con molto piacere. Lo stesso regista ha definito inusuale la trama del suo film che vedrà protagonista un attore che recentemente è tornato sulla cresta dell'onda, ovvero Josh Arnett. Un film che inizialmente era destinato alla piattaforma streaming Disney+, nel reparto Hulu, quindi quello dietato, diciamo, ai bambini. Sto parlando di Alien Romulus, un nuovo film dedicato alla saga di Alien che inizialmente doveva uscire solo per la piattaforma, ma che in Disney hanno deciso di riservare un'uscita cinematografica. Non sappiamo niente della trama del film, ma l'unica cosa certa è che sarà un film a sé, che non toccherà la saga principale, e che non sarà quindi collegato, o per il momento almeno, in alcuna maniera nei film che abbiamo conosciuto. L'uscita di Alien Romulus è prevista per agosto. Non abbiamo una data, ma il periodo, quindi, è quello delle vacanze estive. Un altro film che sto attendendo con molta ansia, come detto, dopo Dune parte 2 e dopo Furiosa, è certamente Joker Foliad. Il film diretto da Todd Phillips e che vedrà protagonista Joaquin Phoenix uscirà il 4 ottobre in Italia e vedrà anche come co-protagonista Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Ancora non sappiamo di preciso la trama, l'unica cosa che sappiamo del film è che sarà un musical, che se trattato con le pinze potrebbe essere veramente un grande film, in quanto si potrebbero inserire le canzoni e i balli che già avevamo visto nel film durante gli sfoghi del protagonista, magari in momenti di pensiero interno o comunque di pazzia dei due, Foliad appunto, sarebbe veramente interessante vederlo messo in scena come un musical. Todd Phillips ha sempre ribadito che il secondo capitolo si sarebbe fatto se ci sarebbe stata un'idea forte alla base. Stessa cosa ha sottolineato molto spesso Phoenix, quindi ho piena fiducia nei due e non vedo l'ora di vedere questo Joker Foliad. Come dicevo prima, non tutti i film presenti in questo elenco che usciranno nel 2024 li attendo perché sono gasato all'uscita o semplicemente perché probabilmente difficilmente mi deluderanno. Questo film lo attendo perché voglio andare a vedere dove Tim Burton vuole andare a parare perché sto parlando appunto del secondo capitolo di Beetlejuice con protagonista Michael Keaton e che vedrà anche Will and the Foe nel cast. Non sappiamo quasi niente della trama, ma la cosa certa è che c'è una domanda che aleggia intorno a questo film. C'era bisogno di torcare un grande classico della filmografia di Tim Burton. Se Tim Burton ci mette le mani sono quasi d'accordo. Per questo sono curioso e l'ho messo nell'elenco delle prossime uscite. In Italia arriverà il 24 settembre e a questo punto segnatelo sul calendario perché attendiamo l'uscita del film. Il 28 marzo uscirà Ghostbuster Minaccia Glaciale che dopo Ghostbuster Afterlife a questo punto aspetto con ansia perché questo ritorno alle origini degli acchiappafantasmi con un nuovo cast ed inserendo anche gli attori storici della saga mi ha incuricito moltissimo. Il primo mi è piaciuto tanto e a questo punto questo Ghostbuster Minaccia Glaciale lo attendo per andare a vedere anche dove vorranno andare a parlare dove ci porteranno questi nuovi acchiappafantasmi se ci sarà finalmente questo passaggio di consegne e se come sembra sarà una trilogia che andrà a chiudere l'arco narrativo degli attori principali che hanno creato e che sono entrati nei nostri cori come i acchiappafantasmi originali. Uno dei film che attendo con trepitazione è il secondo capitolo di Inside Out che uscirà qui in Italia il 14 giugno. Il primo Inside Out ha segnato moltissimo gli appassionati del genere e soprattutto il grande pubblico perché è stato uno dei film più apprezzati degli ultimi anni del Disney-Pixer in quanto poi ha annellato molte recezioni negative per quanto riguarda i diversi film usciti successivamente. Vedremo nuove emozioni soprattutto la prima che si è vista insieme a quelle che conosciamo anzi ha già tutto un programma per questo film che si mette in cima alla lista dei film estivi più attesi e soprattutto per quanto riguarda i film d'animazione potrebbe veramente dire la sua in questo anno che di film d'animazione ne vede pochissimi in uscita. Andando in ordine d'uscita arriviamo ad uno dei punti più dolenti di queste uscite in questo 2024 sto parlando dei tre film previsti per il Sony Spider-Man Universe partiamo con il 14 febbraio con Madame Web il trailer che abbiamo visto potrebbe essere interessante in quanto vediamo diverse spider persone tutte donne appunto tranne se non sbaglio diciamo il villain della situazione che potrebbe essere un uomo ma è sul girl power che si concentra questo film in quanto tutto quello che gira intorno a Madame Web è la creazione di queste spider persone quindi anche soprattutto donne che prendono i poteri che dovranno cercare di risolvere una situazione a quanto complicata e difendersi da questo killer sembra che deve uccidere le spider persone questi film hanno in comune un aspetto negativo che senso ha fare dei film dei suoi villain di Spider-Man senza Spider-Man una domanda che ritornerà spesso quando si parla del Sony Spider-Man Universe quindi Madame Web il 14 febbraio il secondo film in uscita in ordine cronologico per quanto riguarda la Sony è quello di Kraven che arriverà al cinema il 29 agosto il film su Kraven interessa forse di più di questi tre in uscita in quanto dal trailer l'interesse è maggiore violenza ben fatta e la base come ci è stata spiegata sempre nel trailer potrebbe essere interessante perché sembra preso dall'ultima caccia di Kraven che è uno dei migliori albi a fumetti per quanto riguarda il cacciatore vediamo come svilupperanno il personaggio ma questo è quello più interessante e tra i film in arrivo infine il terzo film del Sony Spider-Man Universe che troviamo in uscita quest'anno è quello di Venom 3 ragazzi spero che almeno la qualità aumenti un pochino a differenza dei primi due Venom Venom e Venom la fiora di Carnage perché veramente soprattutto per il secondo è stato vergognoso so che la Sony applica la regola delle formichine che se spende 20 milioni e ne guadagna 25 è contenta allo stesso però un film su Venom come quello di Carnage io non lo accetto più basta perché è evidente che c'è qualcosa che non va alla Sony va bene così evidentemente Venom piace lo vedrò per vedere fin dove si spingono i limiti della Sony ma dovrebbe esserci toxic in questo terzo film ma è tutto nebuloso non sappiamo bene la trama per quanto riguarda Kraven invece sappiamo che c'è un rhino che non è il rhino visto in Amazing Spider-Man con un uomo con un armaturone a forma di rinoceronte ma è proprio un uomo che si è mutato in rinoceronte e questo sono particolarmente curioso di vederlo Ryan Reynolds John Krasinski Emily Blunt Steve Carell e molti altri sono il cast diretto da John Krasinski di Eve gli amici immaginari un film commedia particolare che vede appunto Ryan Reynolds protagonista alle prese con un amico immaginario che dovrà comunque conviverci e insomma cercare di capire come comprenderlo un film leggero che a differenza di quelli passati lo attendo perché e lo consiglio già dal trailer è molto carino e differente però sono curioso di vedere Krasinski alla regia e soprattutto davanti alla telecamera perché non mi dispiace per niente come attore insieme a Ryan Reynolds potrebbero fare una bella coppia insomma in Italia if gli amici immaginari esce il 16 maggio quindi ragazzi segnatevi anche questo che non è un titolone importante ma è un film da tenere d'occhio un altro film che sono molto curiosi di vedere è Wicked il musical tratto appunto allo spettacolo teatrale di Wicked e sarà diviso in due parti la prima parte uscirà il 27 novembre e racconterà come sappiamo la storia tra le due streghe del mago di Oz quindi vediamo cosa ci riserverà e come verrà messo in scena quindi ragazzi Wicked il 27 novembre altro film in uscita ed ultimo della lista per quanto riguarda quelli più importanti di questo 2024 ed è Lord of the Ring la guerra dei Roirim il film animato del Signore degli Anelli che in molti stanno aspettando me compreso perché non vedo l'ora di tornare nella terra di mezzo e vedere messa in scena quella che è una delle epopee più belle del fantasy recente quindi il film animato uscirà al cinema il 13 dicembre e sotto Natale probabilmente sarà uno di quelli più acclamati ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fin qui è stato un video lungo ma spero esaustivo per quanto riguarda le uscite che ci aspetteranno di questo 2024 pieno di film grazie ancora da Valerio Perrone e da Ciaccazioni e vi ricordo di mettere il pollicione e di commentare quale dei film attendete di più qui sotto in descrizione trovate tutti i nostri link al canale YouTube Facebook e Instagram grazie a tutti e buona giornata